L'Istituto Autonomo Case Popolari nega l'attestazione dell'esistenza di un regolare contratto di locazione a chi risiede in un alloggio popolare, ma non è in regola con i pagamenti e dunque è moroso a tutti gli effetti. Attestazione necessaria per poter godere di una detrazione tra 450 e 900 euro nella propria dichiarazione dei redditi e dunque per poter pagare meno tasse. A denunciare questa situazione è oggi il sindacato degli inquilini Sunia, che parla di abuso perpetrato dall'OIACP nei confronti degli assegnatari degli alloggi popolari, ancorché morosi. Il Sunia ritiene che l'atteggiamento dell'OIACP sia arbitrario perché sostiene che quei residenti, essendo morosi, non abbiano il diritto di godere delle detrazioni. Tuttavia, secondo Floriana Bruccoleri, segretario provinciale del sindacato degli inquilini, come requisito per avere l'attestazione è richiesta solo la residenza in un alloggio popolare e non di essere in regola con i pagamenti. Non tenendo conto del fatto che molte volte quel cittadino è moroso perché non ha le risorse economiche in quanto appartenente alla fascia debole e per assurdo in questo caso gli insegnatari hanno grossissime difficoltà a far valere un proprio diritto. Il Sunia dichiara oggi di non poter accettare che uffici pubblici, in questo caso l'OIACP, si facciano giustizia da sé, inventandosi delle procedure di recupero crediti che, negando diritti a categorie di soggetti deboli, paradossalmente aggravano ancora di più le loro condizioni di vita. Se il ceto sociale al quale si appartiene è modesto o basso, si hanno grossissime difficoltà a far valere e riconoscere diritti legittimi senza volere subire il prezzo della non conoscenza o della incapacità a tutelare i propri diritti. A causa di una burocrazia definita farraginosa o incapace di concedere e riconoscere quanto legittimamente spetta. Forse, aggiunge oggi Franco Zammuto, segretario della Camera del Lavoro, nell'occasione è il caso di ricordare i dati Istat di Ramati Giusto Ieri, che rilevano il dato di oltre 4 milioni e 600 mila cittadini in stato di assoluta povertà. Sunia e CGL parlano di angheria perpetrata nei confronti di categorie sociali deboli e spesso anche incapaci di tutelare i loro legittimi interessi. Allo stesso tempo, Zammuto e Bruccoleri colgono l'occasione per informare tutti gli inquilini di case popolari di richiedere il certificato allo IACP al fine di ottenere la deduzione delle tasse. Grazie a tutti.